La Macerata è un boom turistico che parte in particolare oggi da una manifestazione, l'incontro di culture e l'incontro di popoli con il Festival del Folclore organizzato dai Pista Coppi. Il Festival del Folclore è sempre una bellissima opportunità per incontrare tante culture, tanti paesi che arrivano a Macerata con la propria storia, con i propri balli, con la propria musica. Però come raccontavo oggi ai gruppi folcloristici che sono arrivati, si unisce benissimo alla nostra tradizione dell'opera lirica, perché tutte e due sono due espressioni popolari, è la città della musica popolare e della tradizione popolare. E insieme raccontano davvero una bella città, una città che fa musica, una città che fa festa, una città che sa fare comunità. Quando arrivano i turisti, anche questa mattina li ho incontrati, ho parlato un po' con loro, venivano da Brescia, mi dicevano che è bellissima questa città perché si sentono accolti. Mi è sembrato veramente il modo migliore per raccontare questa città. Grazie a tutti. Per quanto riguarda i mesi di giugno, più o meno abbiamo avuto le stesse presenze dell'anno scorso. Parliamo di presenze nel nostro ufficio, chiaramente, non avendoci dei dati per quanto riguarda gli alberghi, strutture ricettive. Luglio e agosto abbiamo avuto un piccolo aumento, un 20-25% di presenze nel nostro ufficio. In più che altro loro conoscono lo sferisterio molto bene e poi hanno un po' sentito del Museo delle Carrosse, che è una cosa particolarissima, questa passeggiatina virtuale che prende moltissimo. Rispetto all'anno scorso c'è per esempio Palazzo Ricci, l'anno scorso era chiuso, il palazzo qui della Fondazione Cassa di Risparmio, l'anno scorso era chiuso, quest'anno è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19. Un bellissimo palazzo dove praticamente sia l'ingresso che la visita guidata sono gratuiti. Turisti che vengono per lo più da dove? Allora, per quanto riguarda gli stranieri abbiamo tanti olandesi, belgi, quest'anno tanti tedeschi, abbiamo una novità di quest'anno, abbiamo la presenza di tanti tedeschi. Chi ha il primato, chi ha l'oro e l'Olimpia dei turisti? L'Olanda, l'Olanda è il primo posto in assoluto, classiche famiglie olandese, giovani, due figli, tre figli, eccetera, quindi proprio gli olandesi sono il primo posto per quanto riguarda la presenza del nostro ufficio. Sembra che sta funzionando la superstrada perché fino a poco tempo fa non si vedevano turisti che provenivano dall'Umbria, invece adesso, nell'ultime due settimane abbiamo riscontrato una maggiore presenza di turisti umbriti. Holland? Holland, Netherlands. Netherlands, which city? Nijmegen? Nijmegen? In l'Oest, near the German border. Oh, I think it's a nice city. It's very nice. And it's quiet and yeah, I like it. Did you hear the name of Macerata from some friends? We stay in a hotel in agriturismo in Morovale, so that's nearby, yeah. And we go for trips in the area. Yeah, yeah. Yeah, yeah. We've seen a church in San Chiesse, San Giovanni. Too much church. Oh yeah, yeah. And do you like Macerata? Yes, we like it. Yes. Yes. Do you want to come back? Maybe, yes. Yeah. We like the area, so maybe. And tell to other friends, maybe. Yeah, of course, we'll tell to other friends. Yes, of course. Ah bah, on est en vacances dans les marches et on visite. On est venu à Macerata, est-ce que ça va l'air joli? C'est joli. Voilà, c'est très beau. Pourquoi c'est joli? Beaucoup de monuments, une ambiance sympa, des terrasses, le soleil, voilà. Vous avez vu les pupilles? Oui, oui, bien. Super original, typique d'Akin. C'est ce que je vous raconte, quand je viens à Spagne, je vous parlerai. Vous parlerai de Macerata? Bien. Bien. Bien, oui. Bien. De la gens, de tout, de la hospitalité. Bien. Merci. A vous. Ah, parce que c'est un bon shop de jolière, qui est fermé pour les fous de la journée. Et manger ? C'est toujours très bon dans Marquet. C'est presque vegetarien. Donc, si vous êtes fatigué comme je suis, vous pouvez manger bien pour les fous. Oui, c'est ça. Nous l'avons beaucoup apprécié. C'est un bon endroit où se passer. Merci. Vicenza. Comme mai proprio Macerata ? Non, non. Parce que nous avons été une semaine en Puglia. Et, retournons à casa, nous avons dit que nous faisons une métalle à métalle. Nous avons choisi Macerata. Comme nous... Nous avons parlé aussi de la fille qui tourne un peu plus. Donc, vous avez déjà été à Macerata, votre fille ? Oui. Et parlant que c'était une belle ville et dit, passons à Macerata. C'est la première fois à Macerata ? Oui. C'est la première fois. C'est la première fois à Macerata ? Le spirituel. Le bâtiment. Le bâtiment. Oui. C'est la première fois à Ascoli, Macerata, puis je vais à Urbino. J'avais 4 ou 5 jours et j'ai dû voyager de seul cette année et j'ai choisi les marques. Donc, c'est un itinerario programmé ? Programmé ? A metà. A metà, si. Sapevo dove venire e poi giorno per giorno. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise. est la première fois à Ascoli et Macerata. Nous sommes en vacances à Marott, donc à Senegal. J'ai terminé, nous avons été à Marott et nous avons été à Macerata. Nous avons vu qu'elles était à Macerata, nous avons vu ce n'est pas. C'était un'attractive ? Non, nous n'est pas que nous sommes venus pour voir un endroit particulier à Macerata, mais pour visiter la ville. Nous avons vu le théâtre très beau. La seigne de l'appartement ? museale con attività ristorativa funziona in questo caso? Io parlo per me, secondo me è una cosa che dovrebbe e potrebbe essere potenziata, però sì funziona, funziona. Anche un riscontro positivo l'abbiamo visto dai turisti che ci hanno detto che è una cosa positiva, bisogna dire che magari va potenziata la pubblicità sotto un punto di vista proprio di promozione diciamo locale sul territorio maceradese, chi arriva non sa direttamente cosa vedere e dove andare a chiedere, quindi magari sotto quel punto di vista ma le cose più spicciole, segnaletiche, cose di questo tipo, per il resto però funziona, una volta che entri in un locale da turista c'è l'operatore che ti dà tutte le informazioni, anche perché siamo messi, io parlo sempre per la mia attività, siamo messi ben in contatto con tutti i poli da attrazione. È stata davvero una bella estate, un grande weekend di ferragosto, è stato bello, io già l'ho detto altre volte, scoprire una città così piena, così viva anche l'estate, non solo grazie al turismo che ha confermato il trend dello scorso anno, ma vedere anche tanti maceratesi che hanno scelto di rimanere a macerata durante le ferie, godendosi il centro storico, tutte le attrattive, tutti gli eventi del centro storico e non solo, perché anche durante i giorni di ferragosto, anche giornate in cui non c'erano eventi particolari, però noi abbiamo visto davvero tantissimi maceratesi a passeggio per le vie del centro, quindi davvero è stata proprio una grandissima estate, io davvero ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, non solo l'amministrazione ma anche la rete Macerata Musei, l'associazione Sferisterio, Francesco Micheli e anche per una sezione lirica che ha fatto sì che a Macerata davvero diventasse centro in quelle settimane davvero di grande presenza turistica e non solo, quindi davvero una gran bella estate, voto, siamo molto contenti, voto, ma 110 in lode se può bastare. Grazie.